Ancora una volta in questa legislatura siamo costretti a dover chiamare in causa il Governo tramite interrogazioni per denunciare annose problematiche strutturali e organizzative riguardanti il settore dei trasporti aerei in Puglia. E lo facciamo anche in considerazione delle rilevanti risorse che la Regione investe per la promozione turistica nei confronti del vettore Ryanair, che dovrebbe garantire maggiore efficienza nella pianificazione del suo lavoro. A dirlo, dopo il caso delle 13 ore di attesa sabato scorso nell'aeroporto di Bari, per coloro che dovevano imbarcarsi sul diretto Bari-Cagliari della compagnia Ryanair, sono i parlamentari di Direzione Italia, Salvatore Matarrese e Pierpaolo Vargiù, che hanno rivolto un'interrogazione al Ministro dei Trasporti per sapere per quali motivi i passeggeri del volo Ryanair-Bari-Cagliari di sabato scorso abbiano atteso dalle 10 alle ore 23 con relativi disagi. Questa ennesima circostanza, sottolineano nell'interrogazione, ha causato non solo disagi intollerabili a 150 turisti, tra i quali anziani, bambini e disabili, ma anche evidenti danni di immagine per le due regioni coinvolte. Tra l'altro viene evidenziato il contratto della Regione Puglia con la compagnia irlandese, costa attualmente 12 milioni e mezzo di euro all'anno, pari a 62 milioni di euro nella programmazione 2014-2019.